Amici giuventini, non vi aggettate il sangue, vi potete fare male, la verità è che fuori dall'Italia voi siete meno di zero, accontentatevi degli scudetti, anzi io vi liderai senza fare il campionato, tanto voi sapete come accaperrarvelo. A livello europeo lasciate spazio alle squadre italiane blasonate, vedi l'Inter e il Milan, non è per voi la Coppa Europea, la segnata non la vedete sempre.